Sono felice di essere qui ed è la verità, altrimenti non avrei fatto questa scelta. Ha esordito così, sorridente, in mezzo ai tifosi e agli addetti stampa riunitisi in piazza cima a Conegliano, Carolina Costa Grande, schiacciatrice italo-argentina, nuovo acquisto dell'Immoco Volley. La pluripremiata campionessa, vincitrice tra l'altro di un mondiale per club, si è presentata nella serata di giovedì 21 luglio davanti al pubblico che l'ha accolta entusiasta. La voglia di vincere non va mai via, ha dichiarato Carolina, la nuova Pantera che probabilmente sarà uno dei punti di forza della nuova squadra 2016-2017. Al termine della conferenza, la giocatrice si è intrattenuta per la gioia dei tifosi insieme al pubblico, firmando autografi, nel tipico stile delle Pantera.